Buonasera dal campo di Grugliasco gara del torneo a punto di Grugliasco tra i neri del Grugliasco e i rossi del Vittoria di S22 gara di campionato, siamo qua questo caldo pomeriggio di giovedì partiti il Grugliasco gioca in casa in questo torneo gioca da destra verso sinistra con il completo nero Livest bianco-rosso maglia rossa pantaloncino bianco da sinistra verso destra terreno erbofintetico temperatura quasi perfetta anche se c'è un pochino di umidità va a perdere il muro c'è lo scarico anche c'è lo scarico c'è lo scarico avevi Jerry lì Willy avevi Jerry solo solo eh bravo bravo Lory Mekrale Mekrale aiuta aiuta gioca eccolo vieni vieni Andrei Willy quello eh Dario dove devi essere oh non hai capito allora calma ragiona bravo 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 Willy Ale Ale adesso sali sali adesso in uscita uno in uscita uno veloce sto giro palla veloce adesso adesso vieni oh vieni giamo bravo bravo lo prendi 26 maggio 2016 Ezzo ma Kiko vai vieni questa gara fa parte della seconda fase del torneo lì resta coltita come seconda il grugliasco come prima va bene va bene matti non escono matti aiutalo aiutalo ecco un giro sulla nostra panchina prima di proseguire dai raga non escono ma va bene va bene muro non escono muro ancora si scolù aiutalo aiutalo ancora ecco punizione siamo al quarto del primo tempo Ezzo quarto del primo tempo sempre 0-0 mi hai detto che te la metti sulla testa muro occhio fuori gioco muro guarda Ezzo guarda dov'è la malemarcatura si prova il tiro ci dicono dalla regia ecco non va bravo subito subito bravo aiutalo 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 vs ti sono ma ringipelo a muro è andato a pressare sali con lui muro nel periodo non collegato un contropiede del Gugliasco con la palla che è uscita poco dallo spiega dalla porta ecco l'andrei vuoi si ma ti svegliano bello portiere nostro e quindi 1 a 0 segnato Grugliasco abbiamo visto dopo una bella parata del nostro portiere ora arriva qua andrei arriva qua andrei 12esimo 1 a 0 quindi ha segnato Grugliasco Grugliasco regore a fallo in mano del difensore siamo al minuto 12 abbastanza netto il fallo in mano del difensore gol 1 a 1 quindi 1 a 1 la partita si riapre bravo Leo, bravo Wansi Wansi dai solo 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 era buona, era buona la giocata, la peccata muro, muro sali sei fermo muro solo sono bambino vieni Marco Deo, occhio! Ancora, ancora, taglia! Taglia, tuo, tuo! Calma, aiutalo! Mettila, bravo! Siamo al diciassettesimo, 1-1. Siamo al diciassettesimo, 1-1. Uuuuh, che sfortuna, senza senso! Uuuuh, che sfortuna, senza senso! Siamo al diciassettesimo! Siamo al diciassettesimo! Sì, Matti, sì, Matti, aumenta! Vai in mezzo, vai in mezzo uno! Vai in mezzo uno! Matti! E metti! Sì, che buona! Vieni! Dai, va bene! Vieni, vieni! Mcclale, vieni! Zitto! Zitto! Vieni via! Vieni via! Diciottesimo, 1-1. Giovanissimi, fascia B 2002 Tra i neri del Grugliasco e i rossi del Vittoria West Vieni, vieni, vieni! Vieni ancora! Andrei, 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 aiuta, aiuta! da i ciari scatari lasciamo al quattro l'arri speech Buona ora! Muro, centrale, muro! Muro! Vieni, vieni Muro! ancora ma perché dai leo dai leo tu leo ce la fai leo non so che ce la fai fai un passo non c'è nessuno ragazzi ancora vai dentro vai dentro andrei taglia sul primo occhio sono fuori gioco uno sul secondo cosa avevamo detto prima prima che ho fatto la cosa non ho fatto vai guarda che sei libero guarda Gerry ancora vieni 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 grande grande Bella Prata dello Sportiere, siamo al 25esimo, primo tempo Vieni qua, saltiamolo in mezzo, Jerry mettilo in mezzo, saltiamo Pazzo, ma non salta nessuno, palla, palla, sveglia Sì, Gabri, sì, Gabri Chico Mekrele, lasciaglielo a lui Non batte, non batte Ho detto falla battere, no? C'è il primo cambio per Livest, è uscito Leo Mamma mia, peccato anche stavolta Occhio, occhio, occhio Taglia, scalco, taglia Guarda la vestita Vai, dai, 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 dai Sì, dai, dai Sì, 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 dai Adesso Sì, dai Vai, dai Sì, dai Sì, dai Goal 2 a 1 Al 29esimo gol di Mura E quindi 2 a 1 Siamo al trentesimo quasi Manca 10 secondi alla fine della partita Ancora Gabri Occhio in mezzo Andrei, andrei, occhio Ultimo uomo è William Guarda di dietro Quindi Era solo con 2 Fini primo tempo 2 a 1 per Livest Secondo tempo Il secondo tempo Livest attacca da destra Verso sinistra con la maglia rossa Il Grugliasco che gioca in caso completo nero Da sinistra verso destra 26 maggio 2016 Gara del torneo di Grugliasco Seconda fase Giovanissimi fascia B 2002 Il primo tempo Si è concluso con il 2 a 1 per Livest Che gioca fuori casa In questa gara di andata Lascia la lì Gabri Distringe Salì Accorcia, accorcia adesso Accorcia un po', vieni Tiro Arbitro Vuoi mischiare Guari Giro su Angelo Vieni Gabri Vieni Gabri Ancora, ancora, ancora Guarda Giro su Angelo Arrottopio 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 Guarda che tra Un'uscita 2 a 2 quindi Se pareggiare il tuo corpo di testa Al terzo 2 a 2 un bel cross troppo di testa è immancabile marco sulla palla gioca gioca a me eccolo eccolo stringi dario stringi dario la 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 Dario, 4. No, no, no. Tra, volume, tra, volume. Tra, volume, bravo. Tra, volume, bravo. Viva 2, siamo al settimo Vieni Gerry, vieni Gerry Eccolo ancora, ancora, si Gerry arriva qui, arriva qui, arriva qui, capri, 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 fuori, eccolo Ammunizione per il numero 6 Mauri, calcia Tiuma, vai più al limite Tico, triggi con Dario Tiuma sali un po' Sulla barriera, eh Sali un po', Tiuma Largo, largo 6 4 a 3 3 a 2 3 a 2 ha segnato Su punizione il Lugliasco Lugliasco Kiko Raza stringi per cortesia Non ti stringere Uomo Adesso Sali Capri Grande Largo Largo Non deve passare Non deve tirare Vieni 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 con lui Vieni con lui Adesso Ancora Dai 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 Pippo E allora Fammelo Certamente Sali un po' Aiutalo 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 Davanti Davanti Adesso lo tolgo Adesso ti levo 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 Pippo! Pippo! Grande! Hop! Hop! Ancora! Largo! Grande Lanza, giusta! Eccola Enzo, eccola Enzo! Portiere! Portiere! Sì, ma... Oh, staici con le mani! No, dai qui, no, non poteva, oh! Non poteva di destra! No, che di testa! Siamo al quattordicesimo, 3-2 per i neri del Grugliasco che giocano in casa in questo torneo... Sali, mettiti bene! Il Grugliasco, appunto, 26 maggio 2016 Ancora, ancora! Aiutalo, aiutate! Aiutalo, arma! Ancora! Aiutalo, Mauri! Arma, va! Asmai, è doppia! Arma! Grande Ale! Ale, dagli copertura a Enzo! Giro, giro, giro! Zero, Mauro! Giro! 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 Dai, dai! Dai! Dai, dai! Dai, dai! 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 Vai dentro adesso! Vai a metterla tu! Vai tu! Leo, vai dentro! Leo! 4-2 siamo al dicesettesimo! Taglia! 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 Marcature! Quattordine! Quattordine! Vai in mezzo qua, te la fai dare! Taglia! Vai già! Vado, vai! Grande! Saliva questa squadra! Corcia! No, no, no! No, è pericolosa! È pericolosa! E' pericolosa! Eccola, gioca ancora! In giro! E' andato! E' andato! Siamo 4-2! 5-2! O più! Taglia! Esci! Dai! 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 Lazzà! Lazzà! Grande! Lazzà! Gioca! Ho! Carico! E' l'abitro! Vai! 6-2! A terra! Gioca! A terra! Paolo! Cringi eh Paolo! Cringi eh Paolo! Hop! Hop! Cambio! Cambio! Te la deve dare la legnata prima o poi eh! Tranquillo Paolo! Scorico! Bravo! Bravo! Quanto manca? Su Eric! Vai lo metti a posto di qui! Vai lui in mezzo! Ma lo metti a posto di qui! Sì Luca! Sì Luca! Sì Luca! Sì Luca! Sì Luca! grande aiutatelo aiutatelo